Emanuele Brucato e Filippo Tallutto sono due dipendenti della Papino Eletto Domestici S.p.A., una società che ha avuto fino a qualche giorno fa, credo, una sede nel centro commerciale Il Casale. Poi a dicembre è successo qualcosa, si è improvvisamente scoppiata la crisi e ci sono stati dei provvedimenti di cassa integrazione. Vogliamo spiegare a questo punto qual è la situazione, quanti siete dipendenti senza lavoro adesso? Sì, i dipendenti siamo, a livello della Sicilia, siamo quasi 300 famiglie, 300 compresi poi anche quelli del punto vendita di Benevento, quindi fuori dalla Sicilia. La problematica è nata già a partire da giugno, l'azienda ha avuto dei problemi economici, finanziari, delle perdite e ha iniziato inizialmente a fare una richiesta di concordato preventivo per evitare fallimenti e quant'altro. Noi abbiamo avuto però delle comunicazioni molto molto lasciate così da parte dell'azienda, non ci ha mai chiarito le reali intenzioni e quali fossero le reali possibilità poi di sviluppo per noi dipendenti. A partire da metà dicembre, con una richiesta che ha fatto l'azienda insieme alle unioni sindacali, è stata richiesta una cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale per noi lavoratori. Questa cassa integrazione che è stata richiesta con correnza da metà dicembre in realtà non è mai partita. Siamo ancora in attesa di percepire qualcosa perché non è arrivata ancora risposta ufficiale da parte del Ministero per questa cassa integrazione richiesta e quindi ci troviamo oggi nelle nostre 14 famiglie del centro commerciale Il Casale e tutte le famiglie di tutto il gruppo Papino con l'acqua alla gola perché siamo tutti ridotti senza né stipendio né cassa integrazione, non c'è un ammortizzatore sociale. Grandi difficoltà dunque Filippo Talluto, cosa chiedete voi a questo punto? Volete lanciare un appello anche attraverso la nostra emittente per far sì che questa situazione si sblocchi al più presto? Sì perché noi ci troviamo in una situazione che è del tutto imbarazzante perché comunque 14 famiglie sono rimaste con le mani in mano non hanno a cosa appigliarsi perché in questo momento il Ministero cerchiamo di contattarlo ma non abbiamo risposto in merito quindi stiamo provando con gli emittenti locali, con i sindacati, con le istituzioni a lanciare un appello affinché possa darci una mano per la risoluzione del problema. Anche l'amministrazione volendo potrebbe farsi carico di questa situazione e di chiedere un sostegno no? Assolutamente sì, l'obiettivo è quello, diciamo che la speranza nostra è quello, risolvere il primo possibile il problema anche perché diciamo che la media delle persone che compongono i dipendenti è comunque alta quindi non a che fare sono le persone all'interno di quel negozio ma c'è uno dietro le famiglie, c'è uno dietro dei mutui, c'è uno dietro delle bollette da pagare quindi tutta una serie di circostanze che ti portano a un disagio vero e proprio un sostegno in questo momento, anche se piccolo, potrebbe aiutarci molto Quindi facciamo anche l'appello ai nostri amministratori affinché prendano a cuore la situazione di questi dipendenti che veramente sono in grande difficoltà e noi aspettiamo novità positive, al più presto ci farete sapere Si spera, stiamo cercando di contattare anche il prefetto che si faccia da portavoce anche per questo problema a portare le nostre istanze anche al ministero direttamente, speriamo